Musica Sempre vicino i cittadini, carabinieri, l'arma, compie 210 anni. Ex palazzo Balilla, a Sondrio, lavori per 6 milioni. Bresaola, piatto unico, ma anche una bella destinazione. Prata, il bene comune, guarda il futuro. Sportello Acli di Chiuro, tra assistenza, giovani e futuro dopo scuola. Sao Mateus, costruire ponti, un impegno lungo 20 anni. Un corriere ben ritrovati per l'appuntamento con le informazioni di TSN, subito a Sondrio, sempre vicini ai cittadini, sempre attivi per garantirne la sicurezza. Oggi anche i carabinieri della provincia di Sondrio hanno festeggiato i 210 anni dell'arma con una bella cerimonia in Piazza Garibaldi. Andiamo a vederla. Baciata dal sole, questa mattina in Piazza Garibaldi a Sondrio, la cerimonia per i 210 anni dell'arma dei carabinieri. La fondazione in realtà risale al 13 luglio 1814, ma per dare risalto a un evento avvenuto esattamente 104 anni fa nel 1920, da allora la si festeggia il 5 giugno. Si ricorda la concessione della prima medaglia al valore concessa appunto alla bandiera dell'arma dei carabinieri. Medaglia d'oro al valore militare per il contributo fornito alla vittoria della prima guerra mondiale. Da allora è passato più di un secolo nel corso del quale gli episodi di coraggio dei militari dell'arma si sono susseguiti ed il medagliere dell'arma dei carabinieri ne è la dimostrazione. Una forza armata che concorre anche ai servizi di polizia sul territorio ed è pertanto essenziale per la sicurezza di tutti i cittadini in Italia e anche nella nostra bella provincia di Sondrio dove è eccellentemente diretta dal comandante provinciale, il colonnello Piras. Una mattinata dunque per celebrare l'arma e la sua aderenza alle molteplici esigenze delle differenti realtà della provincia con una struttura complessa e sempre in linea con i tempi. È un giorno particolarmente importante nel quale si celebrano le attività dei carabinieri sia quale forza armata sia quale forza di polizia. È una giornata nella quale si riflette sulle attività che l'arma compie sul territorio nello sforzo sempre di essere vicina alle esigenze del cittadino. Nel corso della cerimonia odierna i carabinieri hanno schiarato con le loro varie uniformi e hanno mostrato i mezzi e le armi in dotazione. Allestita inoltre una piccola esposizione degli strumenti idonei al sopralluogo sulle scene del crimine. Consegnate inoltre le ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio. Nonostante l'atmosfera ha un tempo ufficiale e festosa, a soli due giorni dall'esequio e solenni ancora viva la commozione per la tragedia dei tre militari del SACF avvenuta esattamente una settimana fa in Valdimello. C'è un forte senso di comunità in questa provincia, una provincia dove i cori valori morali sono molto sentiti e quindi è stata una partecipazione al dolore anche delle famiglie, anche al corpo della Guardia di Finanza molto sentita. Caduti militari che sono purtroppo scomparsi nell'adempimento del dovere. È una tragica fatalità che può accadere a noi operatori di polizia e quindi ci sentiamo molto vicini al Guardia di Finanza perché facciamo un servizio idealmente comune, in una sorte comune. Voltiamo pagina ma restiamo nel capoluogo. L'ex palazzo Balilla Sondro è pronto a rinascere grazie al finanziamento di 1,5 milioni per progetti di rigenerazione urbana. Poi toccherà al Merizi risorgere dalle sue macerie per un intervento complessivo che riguarda appunto quell'area pari a 6 milioni di euro. Infatti nell'ultimo c'è anche l'intervento di restauro al monumento in pietra ai caduti. Oggi siamo stati sul posto, vediamo di saperne di più. È un pezzo di storia e non solo per i sondriesi. Costruito negli anni 30 con l'opera nazionale Balilla, da cui prende il nome, nel dopoguerra tolti i simboli del regime diventa un bene a disposizione del comune che lo destina a centro sportivo e sede di associazioni. Ora l'ex palazzo Balilla, nel cuore di Sondro, è pronto a rinascere grazie al finanziamento di 1,5 milione di euro sul PNRR per progetti di rigenerazione urbana. Poi toccherà al Merizi risorgere le sue macerie per un intervento complessivo che sfiora i 6 milioni. Abbiamo iniziato un cantiere molto importante per la nostra città, è quello dell'ex Balilla. Questo intervento è veramente un intervento a cui teniamo molto. Ristruttureremo integralmente il fabbricato che contiene la sede di alcune associazioni, ma soprattutto la palestra, quella della ginnastica artistica, e sistemeremo e restaureremo anche il monumento dei caduti, che è sempre sede di manifestazioni importanti come l'ultima del 2 giugno. L'amministrazione comunale prevede quindi il recupero e il restauro delle faccette esterne per un importo di 500 mila euro finanziati con fondi propri. L'intervento avviato il 3 giugno si concluderà entro la fine del 2025. Questo è un appalto multilotto, quindi diviso in due lotti funzionali. Il primo si occuperà di interventi all'interno della struttura, interventi in particolare che riguarderanno opere sia strutturali che impiantistiche. I costi sono un milione e mezzo per l'intervento interno da PNRR e 500 mila euro invece per l'intervento esterno, che riguarda la riqualificazione delle facciate e anche dal monumento ai caduti, quindi il fattore molto importante sarà coniugare entrambe i lotti. E anche la tanta attesa palestra che prenderà il posto del glorioso Merizzi non è lontana da essere realizzata. Per questo secondo lotto parliamo di 3 milioni. Appena sarà pronto il progetto esecutivo perché i finanziamenti ci sono già di 3 milioni e speriamo di approvarlo almeno entro fine giugno. Partirà poi la gara per il Merizzi dove verrà buttato giù tutto. E in più oggi, se non sbaglio in giunta, c'è il progetto per la riqualificazione energetica della piscina. Diciamo che stiamo parlando di, a me piacciono i numeri, di un intervento che va oltre i 5 milioni e mezzo, arriviamo quasi a 6. L'ex palazzo Balilla alla fine diventerà un edificio autonomo dalla piscina con l'unico accesso da piazza Valgoi. Per le facciate si interverrà con vari processi e trattamenti, puliture, stuccature, riequilibrature cromatiche di restauro. Come detto verrà restaurato anche il monumento dei caduti in pietra. Ed ora cambiamo nuovamente argomento, destinazione Bresaura. 15 luoghi da scoprire, 15 mete, 15 occasioni per celebrare proprio la Bresaura, che negli anni è diventata ormai un'ambasciatrice del nostro turismo enogastronomico. Il prossimo servizio. Destinazione Bresaura. Raramente un territorio è conosciuto e si identifica tanto quanto la Valtellina e la Bresaura, che negli anni è diventata un'ambasciatrice del nostro turismo enogastronomico. Destinazione Bresaura, in collaborazione con la PF Valtellina, Valtellina nascosta, diventa così una guida alla scoperta di 15 mete, da Savonio in Val Chiavenna al passo dello Stelgio. C'è una guida di carta, ma tramite il sito dedicato, una app, un QR code, il vostro viaggio si aggiornerà e arricchirà in tempo reale. Destinazione Bresaura, giunta quest'anno alla sua quarta edizione, vive con lo spin-off Valtellina nascosta. È un'iniziativa firmata dal Consorzio di Tutela Bresaura della Valtellina per celebrare il legame della Bresaura della Valtellina IGP con la sua zona tipica di produzione, la provincia di Sondrio. E se l'anno scorso era il cicloturismo il valore aggiunto, quest'anno tocca i luoghi più amati dei valtellinesi. Destinazione Bresaura si rinnova, nel segno della continuità però, regala un'esperienza a chi desidera viaggiare, come si dice, laica local, cioè con gli occhi e con la filosofia di chi abita il territorio. Quindi un'esperienza che vede il turista protagonista. Una guida, dicevamo, ma ci piace più definirlo un suggerimento che vuole scoprire la Valtellina partendo dai suoi prodotti tipici. Una campagna di promozione del nostro consorzio, che è il fiore all'occhiello delle nostre attività promozionali. Nei primi anni abbiamo passato, diciamo, il trekking, il bike, e quest'anno andiamo a scoprire dei luoghi nascosti che per noi valtellinesi sono molto importanti. Chiaramente sempre andando a esaltare le qualità del nostro prodotto, da nostra regina, che è la Bresala e altri negipi. C'è soddisfazione per PF e Valtellina? Perché iniziative come questa fanno da traino a tutto il turismo. L'anno 2023 è andato molto bene. C'è stato un aumento percentuale del 7% rispetto all'anno precedente. Abbiamo superato i livelli pre-covid, quindi il 2019. Sono state registrate un milione e tre di presenze turistiche con un pernottamento di 4,27 milioni. Interessante anche la ricerca internazionale della DOCSA che indaga su cosa si aspettano i turisti italiani e stranieri in vacanza in Valtellina e quali i posti da non perdere. Su 3.700 persone intervistate, 1.200 delle quali italiane, il 72% si dice interessato ai nostri luoghi e fra chi non è mai venuto in valle, il 50% lo vorrebbe fare in futuro. 15 luoghi imperdibili individuati da destinazione Bresaura, tutti da visitare. È difficile sceglierne uno in questa bella selezione. Ma quello che mi viene a raccontarvi è sicuramente il tempietto di San Fedelino che si trova sul lago di Novata e Mezzola ed è la particolarità, oltre ad essere immerso in una natura splendida, veramente materna, che accoglie, è la modalità in cui si va a raggiungere. Ci sono due soli modi per raggiungerlo o navigando quindi con una piccola imbarcazione o appunto a piedi dopo un bel cammino di avvicinamento. Destinazione Bresaura, da giugno a settembre, vi aspetta. Si avvicinano le elezioni, dunque non può mancare la nostra pagina politica. Si chiama Bene Comune, è a Prata Camportaccio, è la lista civica guidata dal sindaco uscente Davide Tarabini in lizza contro l'altro raggruppamento di Amministrare Insieme. L'appuntamento è naturalmente le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Tanti i progetti realizzati dal sindaco uscente, fitta l'agenda degli impegni da portare avanti e concretizzare. Siamo andati appunto a vedere cosa c'è da fare a Prata Camportaccio. Vediamo. Con circa 2950 abitanti rappresenta il secondo comune più popoloso della Val Chiavenna dopo Chiavenna e si prepara la tornata elettorale delle amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi. A Prata Camportaccio sono due gli schieramenti in lizza, quello del sindaco uscente Davide Tarabini, capolista della lista civica Bene Comune, e l'altro gruppo Amministrare Insieme, guidato dallo sfidante Antonio Venezia, che non si è però reso disponibile di incontrarci. Il gruppo Bene Comune nasce da un gruppo di consiglieri uscenti, insieme con me, e rinnovato ampiamente dall'introduzione di nuovi 5 consiglieri che portano nuove iniziative, tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. In questi 5 anni siamo riusciti a portare avanti numerose opere pubbliche, grazie anche a importanti finanziamenti e contributi ottenuti da bandi regionali e attraverso contributi ministeriali. In primo luogo ricordo gli interventi importanti sulla difesa del suolo, opere di messa in sicurezza del torrente Schisone, del torrente Trebecca, poi molto importanti gli interventi di ammodernamento dell'illuminazione pubblica, con un efficientamento delle lampade a LED, che hanno portato anche notevoli risparmi. E poi il riammodernamento dei parchetti, ma non solo perché notevoli passi avanti sono stati compiuti anche nell'ambito dell'housing sociale, con interventi sulla viabilità ed asfaltature che hanno fatto seguito ai lavori per l'ampliamento della fibra ottica. Uno sguardo dunque ai progetti in agenda di questa lista civica. Abbiamo degli importanti finanziamenti PNRR per la messa in sicurezza della strada che sale verso la strada per l'Ottano, dove sarà realizzato anche un parcheggio. Abbiamo già dei finanziamenti della provincia per sistemare la pavimentazione del cimitero, oltre ad altri interventi di asfaltatura già programmati e già finanziati. Insieme a questo chiaramente dobbiamo affrontare dei problemi che emergono legati ai servizi alla persona, con l'attenzione per le fasce più deboli, difficoltà, seguito anche dalla pandemia, c'è stato un certo intensificarsi di queste problematiche e non da ultimo la viabilità. Quella viabilità che tocca i propri punti maggiormente nevralgici lungo la statale 36 nei pressi di via Spluga Alta, e in via nazionale, oltre che nei centri abitati di San Cassiano e Prata. Verrà presentata nella compagine in lizza per le prossime elezioni la componente dei giovani. Abbiamo un candidato del 2000, una giovane candidata del 98 e altri giovani. L'attenzione verso di loro c'è, attraverso le politiche giovanili, in collaborazione con Anci, abbiamo attivato da diversi anni dei servizi civili universali, che offrono dell'opportunità ai ragazzi di avvicinarsi alla pubblica amministrazione, oltre poi a eventi culturali, iniziative come i mercatini di Natale, che riescono a coinvolgere anche i giovani. Ecco, per ultimo, abbiamo parlato di cultura, cultura e turismo spesso vanno a braccetto. Dobbiamo puntare chiaramente su un'attenzione rinnovata verso le ciclopedonali, importante ricordare l'attraversamento realizzato in questi cinque anni sul Torrente Schisone, e non da ultimo anche la riqualificazione di aree pubbliche comunali, come l'area del Campofiera, che può dare tanto spazio ai giovani, con iniziative, momenti di musica, momenti culturali. E ora ci occupiamo di sociale. Inaugurato lo scorso autunno, lo sportello di Chiuro delle Acle di Sondrio ha già messo radici, ed è molto apprezzato anche da chi abita nei paesi circostanti. Spica in modo particolare l'attenzione ai giovani, alle famiglie, tra le tante iniziative a contrasto della povertà educativa, c'è anche in cantiere, addirittura un dopo scuola, e per questo si stanno cercando dei volontari. Tutto sommato, anche questo è un modo per fare comunità, il servizio. Oltre ai cittadini di Chiuro, che comunque già nostri clienti, ho notato anche stamattina che anche persone nuove, quindi nuovi clienti, si stanno avvicinando al nostro sportello, tra l'altro anche di altri paesi. Forse anche per la posizione tra Sondrio e Tirano, più comoda da raggiungere per chi abita nei paesi in zona. Lo sportello di Chiuro delle Acli di Sondrio, inaugurato lo scorso autunno in alcuni locali della parrocchia, sembra proprio essere partito con il piede giusto. All'interno di questa sede prestiamo sia assistenza fiscale che previdenziale, ed essendo comunque uno sportello Acli, ci occupiamo anche di previdenza, disoccupazione e pensioni, e portiamo avanti la missione che è delle Acli di andare incontro alle esigenze delle persone. Una particolare attenzione è rivolta ai giovani. Abbiamo iniziato un progetto che si chiama U-Lab e riguarda appunto una fascia d'età dei giovani tra i 15 e i 25 anni. È un progetto che porta a valorizzare le capacità, le competenze dei giovani, soprattutto valutandole a stretto contatto sul territorio. Quindi saranno loro i progettisti di quello che verrà realizzato. Un altro progetto in corso è dedicato a contrastare la povertà educativa. Si chiama Una comunità che educa. Oltre a riguardare i giovani riguarda anche le famiglie, la parrocchia, il comune e tutte quelle associazioni sportive che sono presenti sul territorio. E sebbene l'anno scolastico sia ormai agli sgoccioli, c'è già in cantiere una novità. Il doposcuola nel comune di Chiuro, a cui sono chiamati a fare la propria parte studenti, ex studenti e volontari in una commissione di generazioni che non potrà che contribuire allo sviluppo della comunità. Noi siamo a Chiuro, siamo lì per voi, venite, siamo pronti ad ascoltarvi. Siamo partiti da Sondrio e in conclusione torniamo a Sondrio. 20 anni di Sao Mateus, 20 anni di gemellaggio fra Sondrio e la città brasiliana nella quale attiva l'organizzazione di volontariato creata da Francesco Racchetti e dalla moglie Anna. Tutti i particolari e l'ultime iniziative nel prossimo servizio. 20 anni, 20 anni di solidarietà, 20 anni di vicinanza assidua, 20 anni di impegno concreto, 20 anni di gemellaggio, un'unione che unisce due luoghi così distanti tra loro, ben 8.768 chilometri sulla carta, ma in realtà mai così vicini. La Valtellina da una parte, il Brasile dall'altra. Un'associazione, Sao Mateus Adansa Davida, che in due decenni di storia ha fatto e continua a rafforzare un connubio tra due angoli del pianeta fatto di coscienza, di conoscenza, coinvolgendo i giovani, le scuole, le istituzioni e che recentemente ha presentato proprio presso il comune del capoluogo una serie di iniziative che suggelano questa unione sempre più salda. Ponti di amicizia, di solidarietà, di fratellanza, di azioni attraverso le quali dare un concreto aiuto ad un lembo di mondo nel quale la povertà è il primo nemico col quale misurarsi ogni giorno. Una di queste è il viaggio previsto per il mese di luglio e che porterà a Sao Mateus un gruppo di 18 volontari di tutte le età guidate da Francesco Racchetti, fondatore assieme alla moglie Maria di questa organizzazione. Alla Casa del Rugby di Sondrio un incontro per meglio conoscere l'operato e i progetti e sono tanti di questa meravigliosa realtà. Il nostro obiettivo in questo gemellaggio in questi vent'anni è quello di creare dei punti, creare delle amicizie, creare dei legami e appunto far sì che persone con esperienze vissuti lontani possano sentirsi vicini anche nella nostra città e viceversa. Un cammino fatto insieme lungo due decenni è l'astricato di ricordi costruiti passo dopo passo. Ricordo dieci anni fa quando il decennale sono venuti a trovarci dal Brasile e l'entusiasmo in ogni manifestazione manifestazione e in ogni gesto e soprattutto i risultati ottenuti in Brasile nei nostri progetti di costruire la vita borse di studio che sono nati veramente come un piccolo seme che è cresciuto e si fortifica ogni anno. Quindi i risultati ottenuti sicuramente ci danno speranza per il futuro anche in questo periodo molto difficile. Questo è un progetto molto importante perché sono riusciti a costruire una piccola casa dove le persone i bambini più poveri della città hanno trovato un punto di riferimento possono studiare e grazie anche all'aiuto e grazie anche a questo gemellaggio i ragazzi che dalle elementari poi riescono ad arrivare a laurearsi e quindi avere un titolo di studio e dai racconti ho saputo che questi ragazzi poi si diciamo le loro fatiche e si mettono a disposizione dei più piccoli e dei più poveri. A settembre poi la grande manifestazione rimandata a causa del maltempo dei giorni scorsi nella quale è prevista la presenza di circa 900 studenti della nostra provincia. E questa era l'ultima notizia e quindi grazie per l'attenzione e buon prossimo momento di ascolto e di visione con i nostri programmi. grazie a tutti i nostri programmi. Grazie a tutti i nostri programmi.